Siamo dato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, l'afflusso di tanta gente quest'oggi ha ritardato un po' gli orari e mi scuso, mi scuso anche al nome di coloro che sono nel cordone. L'invito a rendersi conto che quando si sta nel cordone si rende un servizio a Sant'Agata e la gente che è venuta per venerarla ha bisogno di orari certi. Siamo troppo tardi e adesso dovete muovervi. Alcuni di voi non hanno compreso il senso di quello che bisogna fare. Mi dispiace. Coraggio, dobbiamo cambiare stile in questa nostra città. Perché ve lo dico sempre, la festa di Sant'Agata non è la passerella di nessuno, né del Vescovo, né dei preti, né dei politici, né tantomeno dei devoti. Che se sono devoti di Sant'Agata, tirano il fercolo perché la gente possa venerare la Santa Agata. E ora mi rivolgo a voi per il consueto discorso. Permettete all'inizio di questo messaggio di vorgere il nostro pensiero a chi non può far festa. ai paesi in guerra, a coloro che in Ucraina, a Gaza e in molte parti del mondo non possono neppure riunirsi perché sono sotto il fuoco delle bombe. Forse nei momenti di festa noi ci dimentichiamo che quanti sono sulla faccia della terra, sono tutti sulla stessa barca. Pensiamo a questi nostri fratelli e diciamo insieme un Padre nostro per la pace in questi paesi. Padre nostro, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Ma c'è anche un'altra persona e forse tante altre che questa sera vive con sofferenza la festa di Sant'Agata. Quella ragazza di 13 anni che martedì scorso nella Villa Bellini è stata stuprata. E' bene che il nome di questa ragazza per rispetto rimanga anonima però vogliamo affidare a lei e tutte le ragazze e le donne che subiscono violenza come quelle alcuni mesi fa a Palermo, a Caivano vogliamo affidarle a Sant'Agata perché queste ferite terribili siano guarite da quel grande medico che è Gesù Cristo come fu guarita Sant'Agata e preghiamo anche per quei giovani immigrati che hanno commesso questo delitto. Sono immigrati egiziani ma a Catania ci sono tanti egiziani che non sono così come a Palermo ci sono tanti giovani che non sono come quelli che ad agosto hanno stuprato una ragazza. Ricordatevi le generalizzazioni non sono mai intelligenti perché ognuno è responsabile delle sue azioni. C'è solo il degrado morale quello che viene dal cattivo uso dei social che hanno reso la sessualità una cosa e hanno fatto sì che i giovani si ritrovano ad essere un branco e non degli amici. Per quella ragazza e per tutte le ragazze violate e per la conversione delle loro vittime che si sono abbruttite a diventare branco preghiamo Padre nostro sia santificato il tuo nome venga il tuo regno e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Cari fratelli e sorelle i santi abitano le nostre città anche Sant'Agata dal 1126 fra due anni festeggeremo il centenario con grande solennità abita Catania da quando le sue reliquie furono accolte e da quando nel 1376 il mio predecessore il vescovo di Cautania Maurizio fece preparare uno splendido busto reliquiario e una splendida cassa per accollere le reliquie da allora Sant'Agata non ha mai abbandonato Catania lei non è un mito una favola alcune letture oggi ci vogliono far credere questo e snaturare persino il volto di Agata l'unico volto di Agata è quello che risplende su questo busto reliquiario e non altri mi raccomando che si possono prestare ad altre letture qui c'è una storia di fede altrove non so cosa ci sia dal 1126 Sant'Agata abita con la sua città e le ispira fede e forza nel nome di Sant'Agata Catania è stata ricostruita ha affrontato la lava ha affrontato le guerre e nel nome di Sant'Agata le lotte di ogni giorno le affronto io e le affrontate voi soprattutto voi più poveri delle periferie di Catania Sant'Agata abita la nostra città con il suo corpo che attende la risurrezione che Cristo ci ha promesso come ha abitato la sua città come ha vissuto tra la sua gente Sant'Agata dalle notizie che abbiamo della sua passione abbiamo solo due riferimenti quando Quinziano la fa arrestare la beffeggia perché dice sei vestita come una schiava sì perché Sant'Agata pur essendo di nobile famiglia era modesta nel vestire era una donna che come le donne cristiane non amavano esibirsi se non in maniera modesta per il loro sposo ma lei neppure questo perché era diventata una promessa sposa a Cristo Vergine Sant'Agata possiamo dire che ha condiviso la vita degli umili di Catania anche nel suo modo di vestire e poi ci dice la storia che lei davanti al pericolo della morte non è fuggita due caratteristiche i santi abitano con gli umili si immedesimano nelle loro situazioni i santi non fuggono davanti ai pericoli come ha vissuto Sant'Agata in questa città come si vive oggi in una città si può vivere ricercando ciò che è esclusivo creandosi dei luoghi belli e inaccessibili dove alcuni possono godere di una certa qualità di vita o si può vivere invece in condizioni degradanti nelle quali è appena assicurato l'essenziale nella nostra città si può ripetere la parabola che Gesù narra nel Vangelo secondo Luca c'era un ricco e pulone dedito ai banchetti e c'era un povero Lazzaro che raccoglieva le briciole dalla sua mensa cari fratelli e sorelle nella città questi divari ci sono e credo che Papa Francesco abbia fatto bene a distinguere tra le periferie geografiche ce ne sono tante di periferie a Catania e quelle esistenziali esistenziali sono quelle delle dipendenze di tante persone che nella loro vita non sono più padrone di se stesse perché in preda alla droga all'alcol e al gioco d'azzardo con lo stesso Papa sogniamo che le distanze a Catania tra i luoghi e le condizioni del ricco e pulone e quelli del povero Lazzaro siano superate dice Papa Francesco queste belle parole come sono belle le città che superano la sfiducia malsana e integrano i differenti che fanno di tale integrazione un nuovo fattore di sviluppo come sono belle le città che anche nel loro disegno architettonico sono piene di spazi che collegano mettono in relazione favoriscono il riconoscimento dell'altro queste sono le grandi sfide dei cristiani dei cittadini e della politica e mi raccomando Catania può cambiare per abbattere queste distanze non dobbiamo mai dire siamo fatti così non si può cambiare e la cattiva narrazione sulla quale si soffermano molti e che fa dire cambiare tutto per non cambiare niente il Vangelo non è una pagina di letteratura il Vangelo è vita e quelle reliquie di Sant'Agata nel busto reliquiario e nella Santa Cassa ci dicono che sono una storia che può cambiare il corso degli eventi il Vangelo non ci consente di fuggire dalle nostre responsabilità cari fratelli vorrei questa sera consegnarvi semplicemente una preghiera dimmi cosa chiedi a Sant'Agata e ti dirò che tipo di uomo donna sei dimmi come preghi Sant'Agata e ti dirò che uomo e donna sei Dio è Sant'Agata che intercede per noi non possono ascoltare chi chiede la vendetta non possono ascoltare chi domanda il male del prossimo non possono ascoltare chi fa riti esoterici la nostra preghiera non può limitarsi ad una visione individualistica della vita Gesù Cristo insegnandoci a pregare ci ha insegnato solo una preghiera il Padre nostro che è il riassunto di tutto il Vangelo e anche Don Pino Puglisi il grande beato siciliano al quartiere Brancaccio di Palermo fondò un centro per recuperare i giovani e perché si capisse chi fosse e da che parte stesse l'ha dedicato al Padre nostro e i suoi giovani hanno detto il Padre nostro ci ha fatti uscire dal guscio di una fede vissuta in maniera esclusivamente intimistica dalla diffidenza verso l'altro e ci ha spinto a rischiare quando diciamo Padre riconosciamo che Dio ha il volto misericordioso che Gesù ci ha rivelato quando diciamo nostro riconosciamo che gli altri sono nostri fratelli afferma Papa Francesco neppure l'uguaglianza si ottiene definendo in astratto che tutti gli esseri sono uguali è il risultato consapevole della fraternità coloro che sono capaci solamente di essere soci creano mondi chiusi i cristiani non sono per creare società ma fraternità il Padre nostro ci insegna a chiedere che sia glorificato il nome di Dio e non il nostro che venga il suo regno di pace che si realizzi la sua volontà il Padre nostro ci insegna a chiedere il pane quotidiano per tutti ci insegna a chiedere quel pane che non è concentrato nelle mani di pochi che accumulano e magari non danno un giusto salario ai loro dipendenti il Padre nostro ci insegna a chiedere perdono a Dio e a donare perdono agli altri la riconciliazione e il banco di prova più esigente della fraternità infine il Padre nostro ci chiede chiede a Dio di liberarci dal maligno che si insidia in vari modi come un serpente nella vita sociale crea strutture di peccato apparentemente buono che poi si rivelano frutto di corruzione crea le organizzazioni criminali crea le dipendenze di ogni tipo il maligno da droghe da alcol e da gioco a Dio Padre chiediamo di non abbandonarci nella tentazione mai di rassegnarci e allora cari fratelli io vi consegno il Padre nostro perché i primi cristiani come noi quando venivano battezzati ricevevano questa preghiera e anche Sant'Agata l'ha ricevuta come pregava Sant'Agata con il Padre nostro e lì trovava il riassunto di tutto il Vangelo cari miei da chi inizia la nostra corresponsabilità per abitare Catania come Sant'Agata da noi che in questi giorni gridiamo cittadini viva Sant'Agata dai cristiani che pregano il Padre nostro mi raccomando le comunità parrocchiali quelle religiose le associazioni e i movimenti sentano di dover vivere nello stile del Padre nostro da dove cominciare sarebbe facile dire dai politici ma tante volte dimentichiamo che dobbiamo cominciare da noi perché viviamo in uno Stato democratico dove tutti siamo corresponsabili per questo dico a tutti non fuggiamo dal ruolo di protagonisti della vita della nostra città perché se vi rinunciamo a pensare a votare a lasciarci guidare ciecamente cadiamo nel populismo nei quali qualcuno manovra soprattutto i più deboli no dice il Papa un popolo vivo dinamico e con un futuro rimane costantemente aperto a quella che è la sua responsabilità perciò riscopriamoci popolo che costruisse la sua città attraverso un noi comunitario partecipiamo alla cura delle nuove generazioni dei vostri figli che frequentino la scuola ve lo ripeto ancora che frequentino le scuole che assicurino loro lavoro in una città nella quale si sta investendo sulle nuove tecnologie partecipiamo a renderla bella e dignitosa perché Catania è città di abitare nella quale accogliere pellegrini e turisti nella quale integrare immigrati abitiamola tenendola pulita rendendola più bella a partire dal nostro quartiere e sentiamo che alcune zone a lungo tralasciate sono parte della nostra città non preoccupiamoci solo perché ci può essere un ritardo nella raccolta dell'immondizia teniamo pulite le nostre case le nostre stade e la nostra città il volto di Agata ci chiede di abitare la sua e la nostra città con amore con quella carità che al cuore di ogni vita sociale sana e aperta la carità non è solo un atto di elemosina ma si esprime in un'amicizia e in una solidarietà da vivere nella nostra città nei nostri quartieri cari fratelli Sant'Agata è vissuta da sorella dei poveri a Catania non è fuggita dal pericolo in quel febbraio del 251 ed allora ha scritto il primo rigo della poesia vera di quella città perché parlo di poesia e qui concludo perché Papa Francesco ha chiamato poeti sociali quelli che sanno cambiare le cose quelli che sono seminatori di cambiamento sapremo essere i poeti sociali di Catania campiantola ricordatevi Sant'Agata è stata la prima poetessa sociale con il suo martirio perché ha cambiato una città pagana che tante volte ricade nel paganesimo per farla diventare cristiana ricordatevi solo la carità cristiana e solo la solidarietà con quelli uomini e donne di buona volontà che vogliono il bene autentico dell'umanità salverà Catania solo la carità salverà Catania sia lodato Gesù Cristo cittadini e allora diciamo un padre nostro un ave maria e un gloria al padre perché Catania sia di Gesù Cristo come Sant'Agata con il suo martirio ha voluto di Gesù Cristo e di nessun altro padre nostro sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo e non abbandonarci alla tentazione Ave o Maria Santa Maria Madre di Dio gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo per i nostri defunti che noi speriamo risorgeranno in Cristo a vita nuova l'eterno riposo riposini in pace e amici il Signore sia con voi sia benedetto il nome del Signore il nostro aiuto di Dio di Dio